Fare gli auguri a Natale a fine d'anno è un po' un rito. Il rito sembra una cosa negativa. In realtà, come viene detto nel Piccolo Principe, il rito è qualcosa che fa diverso un giorno dagli altri. Che cosa fa diverso questi giorni da tutti gli altri giorni? Ma forse che contiene in sé, insieme a tutte le nostre ansie, paure e insoddisfazioni, forti elementi invece di speranza e di gioia. Allora io l'augurio che vorrei fare, lo legherei proprio non prescindendo dai tanti problemi che quest'anno abbiamo vissuto, ancora una volta il tema del lavoro su tutti, il lavoro che manca, il lavoro che è sempre più incerto, ma anche le fatiche quotidiane delle famiglie, magari non solo dettati dai problemi economici, ma dalle sfide di una complessità che sempre più mette un po' a rischio anche i nostri buoni rapporti. L'augurio allora che faccio è un po' un augurio che voglio fare da questa piazza. Quest'anno abbiamo riaperto, dopo anni e dopo un impegno che bisogna dar atto, hanno fatto anche le precedenti amministrazioni, questo palazzo che c'è alle mie spalle, il Palazzo delle Paure. Il nome evoca una paura che noi vogliamo sconfiggere. Abbiamo investito nella riapertura di questo palazzo anche simbolicamente, perché in un momento di fatica a investire sulla cultura, investire sul bello, investire sulle buone relazioni, certamente non è risolutivo dei problemi, ma può dare quel lievito, può dare quella speranza di cui abbiamo bisogno. Certo non basta questo. Occorre che le politiche concrete, fare infrastrutture adeguate alla città, servizi sociali che siano sempre più all'altezza delle nuove sfide, le politiche del lavoro insieme alla provincia, insieme alla regione e ancora la capacità di programmare uno sviluppo che sia rispettoso sempre di più dell'ambiente. Sappiamo di essere su tanti temi in ritardo e un po' in affanno, ma anche le istituzioni vivono le stesse fatiche delle famiglie. Auspichiamo che nel 2013 un governo più attento, sia a livello regionale che soprattutto nazionale, alle concrete dinamiche degli enti locali e dei comuni, sia un governo che possa dare una mano agli enti locali e non vederli invece come il tramite per spremere cittadini e imprese. Soprattutto però, e vorrei chiudere, l'augurio è molto più sincero con chi fa ancora più fatica, con chi sta vivendo questi momenti di incertezza in maniera ancora più cruda sulla propria pelle. Ecco, sappiano di poter contare su degli amministratori che vogliono essere con i loro limiti ma anche con la loro voglia di servire questa bella comunità sempre più vicini alla comunità lecchese.